Il Movimento 5 Stelle va all'attacco sull'arresto in Sicilia del neodeputato regionale Cateno De Luca, eletto con il centrodestra. Avevamo avvertito, dicono dal Movimento, sul rischio impresentabili. Francesco Maesano. L'Assemblea regionale siciliana, già infangata da un arresto e l'attacco di Di Maio, il Parlamento rischia di diventare la casa degli impresentabili. Dopo aver annullato la partecipazione al dibattito di ieri sera con Renzi, il Vice Presidente della Camera si dice pronto a confrontarsi in futuro con gli altri candidati del Premier, ma per ora l'obiettivo sembra puntato contro il centrodestra. Musumeci chiede scusa ai siciliani, gli fa eco il candidato sconfitto in Sicilia, Cancelleri. Siamo sconvolti ma ce l'aspettavamo, fa parte dell'elenco degli impresentabili che avevamo fatto e questo fa sì che il centrodestra e Musumeci governerà male o non potrà governare, perché ha nascosto gli impresentabili nelle ammucchiate di partito. Le alleanze sono un tema controverso anche per i 5 Stelle. Alla nuova apertura di Salvini rispondono ancora con una netta chiusura. Fino alle elezioni il Movimento non vuole essere associato a nessun'altra forza politica, ma si ragiona sul dopo e soprattutto sulla compattezza del prossimo gruppo parlamentare. Presto, annuncia Di Maio, usciranno le regole per le candidature. Entreranno attivisti storici come Buffangli, il più noto tra i 5 Stelle e Lombardi, in linea con i nuovi assetti. Vita dura per i dissidenti. Un esempio per tutti, Torino, gruppo consigliare 5 Stelle. Stefania Bazzella, che a ottobre aveva lasciato il movimento in polemica con i vertici cittadini, viene cancellata da una foto con Beppe Grillo. Un colpo di Photoshop e via, il gruppo è di nuovo compatto.